una valutazione dall'alto così lungo la costa in un punto alto si vede chiaramente che l'orizzonte non è di un bel colore l'acqua che tende al celeste o che tende al verde è un orizzonte che tende al marroncino quasi all'arancione anche se magari adesso nelle riprese non si noterà quello significa l'acqua un po' pulita proprio vicino 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 arriva nelle zone rocciose però uscendo sicuramente di poco verso largo l'acqua diventerà penso abbastanza torbida quindi è molto probabile che oggi avrò dei grossi problemi di visibilità per di più ho anche il 90 quindi non è un fucile adatto per l'acqua torbida però sinceramente dalle previsioni dall'altezza dell'onda relativamente piccola non creerevo di trovare un'acqua così torbida diciamo sicuramente le alluvioni e tutto il fango che è caduto in mare la settimana scorsa ha causato un deposito nel fondo di limo che adesso anche con una piccola mareggiata viene mescolato e l'acqua ridiventa arancione quindi sicuramente bisogna avere pazienza qualche mareggiata fino a quando il mare diciamo torna ad assestare e a pulire tutto e a ricreare ambienti diciamo più equilibrati come erano prima di queste grosse precipitazioni oggi la battuta di pesca sarà breve perché quando le condizioni sono così con l'acqua torbida non è che si ha voglia di stare lì a girare ore e ore in mare quindi mi sceglierò qualche punta lungo la costa adesso vediamo un po' dove mi ispira mi sceglierò qualche punta e mi traglierò il fondo magari con un'oretta di aspetti nel torbido e vediamo un po' è periodo di barracuda quindi ne ho sempre preso a maggio so che in settimana ne hanno preso quindi la preda che cercherò è quella anche se la speranza logicamente è che sbuchi un bel denticione dal torbido vediamo un po' 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 un po'